L'Aventador S è il seguente dell'Aventador, un grande successo del Lamborghini. Abbiamo deciso, prima di tutto, di aumentare il potere, l'outputo del carico a 740hp. Abbiamo presentato, per la prima volta, in un'auto di produzione, il sistema di raccoglioramento del Lamborghini e un sistema completamente nuovo di controllo del chassi, che chiamiamo LD-VA. L'autputo del carico è un dolore del nostro carico e, per questo motivo, ci trattavamo in un modo speciale. Abbiamo il nostro V12 naturalmente aspirato, che è ancora possibile generare più potere di quanto era la versione precedente. Abbiamo avuto il 740hp con un'increzione di efficienza volumetrica, un'optimizzazione della fase di cam, e anche un'increzione della velocità dell'auto. Ma anche lavoriamo in un'auto di potenza, in un'auto, in un'auto, per introduzione un'auto completamente nuovo, che può realizzare un'auto migliore tra il'auto e l'auto. In questo modo, siamo potenti smuovere il cambiamento in modo strada, e avere un'auto più veloce e prezziato in sport e in corso. In questo modo, l'auto è molto più agile, molto più reagente nel cambiamento dell'auto. In questo modo, l'auto è un sistema che coppetta tutta la strada di funzionalità dell'auto. Abbiamo due modi diversi. L'auto è per la velocità normale dell'auto, che, grazie al movimento del controllo dell'auto, rispetto alla fronte, può ridurre la base virtuale di più o meno 500 mm. In questo modo, l'auto è molto più agile, è molto più reagente nel cambiamento dell'auto e nel cambiamento dell'auto dinamico. Quando andiamo a velocità di velocità, rinnoviamo l'auto in la stessa direzione che l'auto fronte, e in questo modo, aumentiamo la base di velocità di 1 m. In questo modo, l'auto è molto più stabile e puoi andare a velocità di velocità di velocità, anche in una grande ruota che puoi trovare in un'auto o in un'auto. In questo modo, tutti questi nuovi strumenti sono importanti di controllare. Per questo motivo, abbiamo presentato questo nuovo sistema che chiamiamo LDW-A, che è un sistema che, da un punto di vista elettronico, può controllare tutti i parametri dell'auto, inizia dalla ruota, dalla ruota, dalla ruota, dalla ruota, dalla ruota e dalla ruota. Dopo, anche in ABS e SP, con il controllo di traccio e il controllo dell'auto, di tutte le ruote, può reagire in modo più facile, controllo tutto ciò che succede sull'auto. Questo significa garantire all'auto, che potrà realizzare la migliora performance del auto in modo più facile e sicuro possibile. Grazie. 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 Grazie.